Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi, ci sono più di 200 persone fuori che cercano di entrare e vi confesso che stiamo sorpresi dal numero, non perché gli oratori non fossero importanti ma sicuramente siete in tanti e stiamo cercando di spostare la sala ma temo che non sarà facile essendo già tutto organizzato e penso che chi è dentro è un caso di difficile scelta democratica, potremmo andare alla votazione chi è dentro e chi è fuori, temo il partito di chi è dentro è contrario, parliamo chi è dentro per ora mi dispiace perché è fuori. Dunque, allora io innanzitutto ringrazio tantissimo il professore Alessandro Barbero per essere ospite, io sono il direttore editoriale di questa casa editrice di Paperfest che ha pubblicato il libro di Alessandro Di Battista, Ostinati e Contrari, che è un libro che si compone di vari dialoghi su temi di attualità, temi storici, temi alti e sono dialoghi molto interessanti, sicuramente il dialogo che apre il libro e lo imprezzocisce quello con il professore Alessandro Barbero è quello che sarà oggetto della nostra presentazione di oggi e non c'è bisogno di presentare nemmeno l'altro ospite, Alessandro Di Battista, il nostro autore e io direi appunto una cosa per rompere un po' il ghiaccio, che molti entrando mi chiedevano un po' bassa voce ma perché il professor Barbero presenta il libro con Alessandro Di Battista, come se fosse uno scandalo, già la presenza sul palco, no? E questo mix diciamo per molti è strano, è anomalo, no? Quindi ricordiamo innanzitutto chi è il professor Barbero, il professor Barbero ordinario di storia medievale dal 2002 all'Università del Piemonte Orientale, autore di best seller sia in campo saggistico appunto non sto a ricordarli ma sia in campo narrativo, vincitore di un primo strega nel 1996 e soprattutto star del web, cioè uno dei pochissimi che non volendo è diventato una star dei social, diciamo ci sono tanti che muoiono di invidia perché postano, sono presenti con affanno su tutti i social e non riescono a avere un milionesimo delle visualizzazioni e dell'engagement, come si dice, che ha il professor Barbero. Ecco, quindi è un caso veramente unico, storico, che riesce a parlare alle giovani generazioni di temi molto importanti e quindi è veramente un onore averlo qui sul palco con noi. Allora, io per iniziare però lascerò la parola ad Alessandro che è l'autore del libro. Vorrei partire da questo dato, c'è il fatto che si danno per scontato spesso gli steccati tra alto e basso, tra destra e sinistra, tra politica e cultura, tanto che sembra strano che un professore come lei sia sul palco qui a presentare un libro insieme a me come moderatore, Alessandro Di Battista come autore. C'è un qualcosa, anche in queste domande che mi hanno fatto più di una persona, dice, ma che ci fanno questi due insieme? Ecco, c'è forse una tendenza, forse anche proprio per colpa dei social, del modo di ragionare tipico dei social, noi, voi, io contro di te, a creare dei muri mentali che impediscono scambi di idee come quello che faremo, spero, stasera. Ma a parte che avevi cominciato dicendo adesso chiederò ad Alessandro Di Battista, poi hai guardato me e hai tirato me. Io non lo so se sia per via dei social perché appunto non andandoci, non ho se non idee di rimbalzo, di riflesso, so quello che mi raccontano di quello che succede sui social. Ti devo dire che evidentemente questo significa che so molto poco di come è fatto il mondo perché mi stupisce molto che qualcuno abbia potuto dire cosa ci fanno questi due insieme. Al di là del fatto che è uno dei grandi vanti della mia vita e che ho fatto anche una cosa insieme a Fedez e quindi non vedo perché non dovrei. Io, come dire, appunto, io sono uno storico, sono uno che fa un mestiere specifico e la cosa che mi piace più di tutte è farlo da specialista perché questo lo devo anche dire. Intendiamoci poi quando uno fa le graduatorie cos'è che ti piace di più? Vabbè, stare qua in una sala con 200 persone dentro e altre tante fuori che mi stanno a sentire mentre parlo, anche questo è gratificante. Però devo dire veramente dentro di me i momenti i più belli della mia vita sono quando me ne sto in un archivio sperduto a trascrivere pergamene del XIII secolo. Quello è il mio vero mestiere. E quindi semmai sono io che rimango stupito quando vengo a sapere che Alessandro Di Battista mi vorrebbe contattare e vuole parlare con me. E la cosa difficile da fare è quella di decidere. Io adesso, come dire, sono un cittadino come tutti gli altri che quindi ho le mie idee su quello che sta succedendo in questo paese e su quello che sta succedendo nel mondo e sul governo che abbiamo, quello che avevamo prima, quello che abbiamo adesso, quello che ahimè avremo in futuro probabilmente. E se sono un cittadino qualunque io ho alcune idee che sono assolutamente come dire come quelle della maggior parte di noi approssimative, caotiche, cambiano frequentemente, dipendono dall'ultima cosa che mi hanno detto non sono radicate sul fatto che io non ne so più di nessun altro ecco. Anzi forse come storico ne so ancora meno di chiunque altro del presente in cui viviamo. Perché una cosa di cui mi sono reso conto proprio di recente attraverso confronti come questo è che se uno fa lo storico è perché quello che ti affascina è l'idea di ricostruire la vita umana, gli avvenimenti della vita umana, il passato, quando sono cose che si sono concluse e si sa come sono andate a finire. Capite l'immenso vantaggio di sapere come sono andate a finire le cose. Uno ragiona sul governo cronofino alla fine e ecco lo storico è uno che si sente tranquillo e si sente al sicuro quando le cose sono accadute, si sa come sono andate a finire, per di più hai accesso ai documenti che all'epoca nessuno poteva vedere. E questo non solo per l'epoca di Cavour e anche come diceva, credo di averlo detto anche lì nel nostro libro, già per una cosa che è successa nella mia giovinezza, la guerra delle Folkland o Malvinas tra Argentina e l'Inghilterra della signora Thatcher, già per una cosa così recente che io ho vissuto allora a 23-24 anni che avevo dovendo basarmi su cosa raccontavano i giornali naturalmente. Una piccola parentesi è che i giornali del 1982 di una guerra combattuta in un'altra parte del mondo davano un resoconto incredibilmente più dettagliato, più onesto, più bipartisan di quello che fanno i nostri giornali del 2022, ma erano pur sempre i giornali. Oggi io leggo i memoriali della signora Thatcher al suo segretario, gli appunti che la presidente del consiglio inglese scriveva a margine dei discorsi dei militari, gli insulti contro questo o contro quello che non ha capito niente, cosa che all'epoca erano segretissime, adesso sono online. Quindi noi ci abituiamo a questo e probabilmente lo facciamo anche perché invece quando ci guardiamo intorno nel presente la sensazione è che capire qualcosa del presente sia un'impresa veramente disperata, che lì la tua percezione è talmente parziale. Cosa conta quello che vedo io quando siamo 60 milioni solo in Italia? Pensa che cosa pazzesca 60 milioni di persone e ognuno ha il suo punto di vista, il suo vissuto individuale, ha conosciuto quelle cose lì e non certe altre. Ecco quindi in realtà appunto a me viene da dire in questi casi va bene ragazzi io sono uno storico, se volete farmi delle domande in quanto storico rispondo volentieri, se no non sono tanto sicuro di avere qualcosa da dire. Allora grazie, torniamo al libro, allora questo è un libro che Alessandro ha scritto dialogando con delle personalità molto diverse tra loro, una di queste doveva essere qui sul palco al posto mio, Tonica Pozzo non stava tanto bene quindi l'ho sostituito e lo salutiamo. Poi abbiamo il famoso giornalista inviato di guerra, ha scritto tanti reportage, ne ha documentati tanti altri sia in Italia che all'estero e poi abbiamo Monio Vadia, Barbara Spinelli, Marina Conte Vannini e Ilaria Cucchi. Allora la scelta di unire in un libro personalità così diverse e dargli un titolo ostinati e contrari citazione di Fabrizio D'Andrea che non ha bisogno di commento ecco mi interessa e mi interessa anche capire perché hai scelto di mettere sotto appunto il titolo ostinati e contrari il professor Barbero. Alessandro. Buonasera a tutti, innanzitutto merito di questo libro è senz'altro di Marco Lillo che ha avuto l'idea, io ho registrato dei podcast insieme a tutti questi personaggi per me così autorevoli e che stimo enormemente tra cui il professor Barbero e l'idea di trasformare dei podcast appunto in un libro è stata di Marco Lillo all'inizio neanche ero del tutto convinto per cui il libro è avvenduto, ha avuto successo e gran parte del merito è tuo oltre chiaramente delle persone che si esprimono all'interno del libro stesso. Io sono una persona normale, ho soltanto avuto e ho delle idee, le ho sempre portate avanti credo anche con coerenza, con rispetto in primis delle idee stesse proprio perché reputo che le mie idee abbiano un valore e per questo evidentemente delle persone con degli altri valori oltre con delle idee di valore anche con il professor Barbero accettano di partecipare dei confronti, dei dibattiti civili come questo. Senz'altro a me questo inorgoglisce ma evidentemente conoscendo anche la storia di determinati personaggi non avevo dubbi che appunto non vi fosse il rischio di una possibile timore di eventuali rappresaglie mediatiche. Rappresaglie mediatiche sappiate che io subisco da tanti anni però ho le spalle larghe, conosco un po' il sistema mediatico e vado avanti proprio perché credo nelle idee per le quali combatto. L'idea di questo libro mi venne dei podcast durante il governo che io ho definito dell'assembramento, il fatto che il Movimento 5 Stelle che è stata poi una parentesi della mia vita, io ero altro prima di entrare in Parlamento e sono tornato ad essere altro quando per mia scelta sono uscito dal Parlamento però quando il Movimento entrò dentro quel governo io decisi di lasciare il Movimento perché per me non era una scelta più incline appunto con le mie convinzioni e dato che il governo alla parentesi Draghi per me è stato un periodo di grande conformismo che per quanto mi riguarda è proseguito con il governo Meloni che è molto più simile al governo Draghi di quel che si possa pensare, ritenni che mettere assieme personaggi anche dissimili tra loro con storie diverse ma tutti caratterizzati dal coraggio di portare avanti il lavoro dello storico, la lotta per la legalità, la lotta per la giustizia, la lotta a favore del popolo palestinese cosa che fa un ebreo come Monio Vadia e guardate che oggi parlare di diritti dei palestinesi significa veramente andare controcorrente o banalmente la lotta per un sano giornalismo come quello di Tony Capuozzo. Prima il professor Barbero ha detto una cosa come sempre con stile ma profondamente anticonformista rispetto alla società di oggi quando appunto ha parlato di giornali, come coprivano la guerra del Malvinas o Falkland negli anni 80 i giornali italiani e come coprono la guerra in Ucraina. Quando io ascoltai il professor Barbero sulla RAI dire per me è un'ovvietà ma comunque evidentemente qualcosa di anticonformista ovvero che il problema principale in Donbass è la presenza di cittadini che sono ucraini, hanno il passaporto e i documenti ucraini ma non si sentono ucraini ma si sentono russi, che questa è una realtà estremamente preponderante in Donbass, totalmente preponderante in Crimea dove in Crimea sono praticamente tutti i russi piaccia o non piaccia sono tutti i russi. Quando io ho ascoltato gli attacchi che ha ricevuto poi lui ovviamente se ne infischia come disse Red Butler, comunque possono far male comunque evidentemente professor RAI la capacità di discernere e di andare oltre determinate accuse piuttosto superficiali di giornali o di politicanti. Ascoltando quella frase, anche ascoltando quella frase ma poi leggendo un articolo di Barbara Spinelli sulla genealogia del conflitto in Ucraina io ho avuto anche, come dire, ho preso la decisione di recarmi in Russia e provare a conoscere un po' meglio il punto di vista dei russi che nessuno evidentemente vuole conoscere come se fossero tutti putiniani o come se non avessero, non delle ragioni a sostegno chiaramente della guerra o operazione speciale ma qualcosa da dire o non avessero una memoria storica per citare il professor Barberto. Quindi l'inizio di questo viaggio io l'ho fatto a Borodino, come viene chiamato in Russia il luogo della battaglia di Borodino a Kursk, a Stalingrado, tantissimi conoscono le elezioni sulla battaglia di Stalingrado e il professor Barbero sono andato a Belgoro da parlare con i rifugiati del Donbass, i russi del Donbass che hanno subito delle violenze anche per mano di neonazisti ucraini, che questa è la verità che credo che abbiano la stessa identica dignità delle violenze che hanno subito i cittadini ucraini per mano russa è la guerra recentemente leggo anche molte critiche giuste sulla strategia russa di bombardare le centrali elettriche in Ucraina è una tragedia, per me è un crimine ma pensate che la Nato quando ha bombardato Belgrado nel 1999 non ha colpito le centrali elettriche serbe è la guerra, quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di farla finire il prima possibile ognuno avrà le proprie strategie so solo che mesi fa chiunque osasse pronunciare la parola negoziato veniva trattato come un collaborazionista del cremelino oggi iniziano a farli anche i politici del Partito Democratico ragionamenti sul negoziato forse perché si rendono conto che la pubblica opinione forse è più anticonformista del potere ho tentato di mettere assieme tutta una serie appunto di personaggi in primis che stimo e poi perché penso che l'anticonformismo sia il sale di una democrazia aver timore di esprimere un parere per la rappresaglia mediatica aver timore di dire io la penso così per paura delle strumentalizzazioni di quelli che vengono definite, non lo so, bufere mediatiche Di Battista ha detto questo, bufera su Di Battista ho espresso un'opinione, poi qualcuno sarà d'accordo, qualcun altro non sarà d'accordo ma i giorni in cui dovessi castrarmi ancora prima di esprimere un'opinione per il timore che giornali di un certo tipo che non coprono oggi adeguatamente la guerra in Ucraina perché banalmente non sono andati a parlare nessuno con i rifugiati a Belgorod o che evidentemente vogliono attaccare tutti coloro che sostengono non lo so, anche degli articoli della Costituzione che sono contro l'invio delle armi in Ucraina che reputano le sanzioni uno strumento geopolitico non utilizzato oggi da Europa o Stati Uniti per porre fino alla guerra in Ucraina ma separare l'Unione Europea dalla Russia per separare, che è un obiettivo strategico americano, legittimo un grande continente industriale e tecnologico come l'Europa con un continente, perché la Russia è un continente energetico che per questo è l'obiettivo delle sanzioni veramente non so quanti abbiamo creduto davvero che porre delle sanzioni sarebbe stato utile a fare un cambio di governo in Russia probabilmente neanche conoscono la storia del paese, della Russia la storia degli anni 90 in questo senso quanto il presente comunque sia correlato alla formazione a quanto la memoria collettiva di un popolo sia stata forgiata e da quali episodi storici è stata forgiata la memoria collettiva di un popolo come quello russo non soltanto è utile uno per rafforzare determinate convinzioni ma anche per trovare una via di uscita alla guerra in Ucraina io dal primo giorno, dato che dato che la Crimea piaccia o non piaccia è russa anche storicamente e ci vivono soprattutto russi e tatari di Crimea io dissi perché poi ho avuto anche la possibilità il privilegio di fare il parlamentare e so che i politici necessitano di successi politici da presentare alle pubbliche opinioni quindi ho sempre detto mettiamo a disposizione il riconoscimento della Crimea russa in cambio di un immediato cessate il fuoco in Ucraina e un tavolo negoziale per trovare una soluzione che va trovata politicamente la soluzione in Donbass perché il problema è sempre quello che menzionò il professor Barbero in Rai cioè la presenza di milioni di cittadini ucraini che non si sentono ucraini ma si sentono russi e stanno lì e vogliono stare lì e questo è il problema quando io menzionai appunto queste ipotesi come tentativo di poter uscire quantomeno di tentare di dare là a un negoziato proprio in virtù del fatto che avevo studiato conosco un minimo la storia russa pensate quanto è importante conoscere la storia oggi ancora di più per poter tirare anche fuori delle proposte o pensare a come si possa uscire dall'inferno in Ucraina che temo anche avendo girato in lungo e in largo la Russia temo che non sarà rapida l'uscita sappiate che la maggior parte dei cittadini che ho conosciuto in Russia tra l'altro viaggiando in Platskart la terza classe dei treni russi in lungo e in largo facendo circa 13.000 km sui treni cittadini di ogni tipo perché ovviamente sono partito da Belgoro dal confine con l'Ucraina e sono arrivato a Vladivostok al confine con la Corea del Nord la maggior parte ma credo quasi il 99% ritenevano e ritengono che vi sia anche del neonazismo in Ucraina e quasi tutti ritenevano che fossero ingiuste le sanzioni mi rispondevano ma perché non sono state applicate agli Stati Uniti d'America quando hanno invaso l'Afghanistan e l'Iraq tutti anche i più fervidi antiputiniani e ve ne sono soprattutto tra le fasce più giovani ragazzi che hanno vissuto un benessere rispetto ai quarantenni e cinquantenni che hanno vissuto gli anni 90 delle privatizzazioni del periodo di Yeltsin del fondo monetario internazionale che determinava le scelte politiche del Carmelino era il fondo monetario internazionale e Putin piaccia o non piaccia e io se fossi russo non voterei mai Putin piaccia o non piaccia per milioni di cittadini ha tirato fuori la Russia da quel periodo nero gli ha ridato anche un valore internazionale tra l'altro ha anche colpito lo strapotere degli oligarchi e ha migliorato le condizioni socio-economiche del paese dire questo è pericoloso anticonformista perché il titolo è di Battista sostiene Putin di Battista elogia Putin e queste minchiate qui ma non dirlo significa come dire cedere veramente alla dittatura del pensiero unico che probabilmente è la caratteristica principale del periodo conformista che stiamo vivendo oggi e che paradossalmente non vi era durante la prima repubblica il professor Barberi in questa splendida e poi chiudo chiacchierata che mi ha concesso l'onore di avere con lui lui che viene che quando era più giovane era iscritto al partito comunista ha compreso che probabilmente il periodo l'invenzione che ha garantito maggiore felicità agli esseri umani sia stata un sistema moderatamente capitalista con all'interno la presenza di un fortissimo partito di opposizione che nella prima repubblica del partito comunista e oggi forse non c'è del tutto perché bilanciava perché evidentemente anche quel sogno sovietico che si reggeva anche su una visione per me positiva della società tant'è che oggi anche questo è interessante ricordarlo il partito comunista della federazione russa e l'ultima elezione per la Duma di Stato ha preso il 19% o più del partito democratico significa che vi sono nostalgici non dell'imperialismo sovietico poi l'Unione Sovietica è stata molto meno imperialista degli Stati Uniti d'America ma di quel periodo di quell'esperimento sociale di quella fiducia nel cittadino in un periodo in cui non vi era razzismo perché c'erano cittadini dell'Azerbaijan del Caucaso Tatari della Repubblica di Buriazia e tutti però si sentivano cittadini sovietici credendo in un progetto per quello vi è tuttora della nostalgia ecco ascoltando il professor Barbero sostenere poi questa tesi sulla grande felicità che vi era forse paradossalmente durante la Prima Repubblica io ho fatto un altro pensiero che forse la Prima Repubblica anche per merito di politici della stessa democrazia cristiana è stata una Repubblica meno conformista di quella nella quale stiamo vivendo oggi era normale ascoltare Pertini sostenere il diritto della popolazione palestinese accusare di fatto un ex ministro che poi è diventato presidente come Ariel Sharon di alcuni crimini o commessi o che ha preferito non vedere mi riferisco a Sabre Shatila e oggi sarebbe impossibile ascoltare non dico il Presidente della Repubblica ma un singolo parlamentare avere il coraggio di esprimere determinate tesi per questo ci vuole un po' di direzione ostinata e contraria e credo che anticonformismo e democrazia debbano andare di pari passo grazie volevo ripartire da una delle cose delle tante cose che ha detto Alessandro riferite al dialogo che c'è in questo libro con il Professor Barbero leggo questo passo del libro in cui il Professor Barbero dice la storia del Novecento ha scavato dei solchi sia tra i popoli sia all'interno dei popoli ed è un esempio da manuale di come la memoria collettiva diventi un'arma politica e non abbia niente a che fare con la storia che è il tentativo di capire la complessità e di vedere insieme i diversi punti di vista poi segue un ragionamento del Professor Barbero su come questo concetto si possa applicare alla situazione attuale della guerra dell'invasione russa dell'Ucraina e sostanzialmente quello che è interessante è questo uso come un'arma della memoria che è molto interessante e mi sembra di capire che la storia lei la veda quasi come una medicina contro questo male cioè la storia con la S maiuscola quella che fa lei bene sai noi che prendiamo uno stipendio per studiare la storia e insegnarla dobbiamo in qualche modo convincerci che serviamo a qualche cosa e del resto da sempre quelli che studiano la storia hanno avuto questa ossessione di dover dire no ma serve guardate serve storia magistra vite ti insegna a vivere ed è perfino vero in un certo senso ma in modo molto indiretto in altri tempi si è creduto che studiare la storia potesse servire a capire a prevedere il futuro addirittura perché si è creduto che la storia avesse delle leggi che avesse un suo senso che ci fosse una qualche forza misteriosa se invece eri cristiano quella forza era la provvidenza naturalmente ma non importa per qualche ragione la storia avesse una sua razionalità questo si poteva declinare in tanti modi un modo ingenuo in cui è stato declinato sia pure in un'epoca molto intelligente come il diciottesimo diciannovesimo secolo è stato di dire la storia è comunque progresso noi esseri umani via via miglioriamo ecco noi in questo inizio di millennio ci troviamo in una di quelle fasi in cui ti guardi intorno e ti dici ma ecco proprio essere sicuri invece ci sono state epoche in cui effettivamente la gente diceva ma guarda ma guarda come si vive meglio ma guarda quante idee in più abbiamo naturalmente si diceva anche guarda quante macchine abbiamo in più no all'inizio del novecento hanno appena inventato l'automobile il telefono l'aeroplano la mitragliatrice siamo meglio e andrà sempre meglio oggi noi invece viviamo in un'epoca in cui senza alcun dubbio hai la sensazione che certe tecnologie continuano a migliorare e hai a disposizione anzi tecnologie incredibili che non avresti mai sognato tuo padre tu stesso da ragazzo non avresti mai sognato poi naturalmente dici anche ma la gente è diventata più intelligente per questo o è diventata più buona più tollerante più ragionese anche per idea quindi ti accorgi anche che bisogna scorporare il progresso tecnologico quello può anche darsi che continui per sempre a crescere per quanto non è detto anche gli antichi romani non immaginavano che un giorno i loro acquedotti e le loro fogne e le loro strade sarebbero andate in rovina perché non c'era più nessuno capace di farle funzionare per adesso i treni vanno gli aerei volano con il mio stupore devo dire certe volte vedendo che gente siamo noi di oggi ma insomma comunque però il progresso tecnologico appunto non è tutto l'idea era che proprio la storia per forza di cose porta l'umanità su una strada di miglioramento ininterrotto e quindi è chiaro che la storia diventava una dimensione dentro cui tutti viviamo e anche molto rassicurante tu studi la storia per vedere come facevano gli illuministi del settecento gli illuministi del settecento studiavano le crociate supponiamo per poter dire vedi come erano cretini gli uomini all'epoca che erano disposti a farsi ammazzare a spendere un sacco di soldi per andare a conquistare quattro sassi nel deserto che non importano niente a nessuno mi faccio trascinare non c'entra niente Voltaire dice per andare a conquistare quattro sassi ancora più miserabili della Svizzera vedete il progresso in Svizzera c'è stato il progresso al tempo di Voltaire la Svizzera era l'idea di un posto completamente inutile quattro sassi miseria totale ma al di là di questo appunto c'era questo e poi comunque c'era l'idea che studiando la storia e questa non era del tutto sbagliata invece è quello a cui ci aggrappiamo ancora oggi che studiando la storia capisci qualcosa non perché afferri delle leggi e una volta che hai capito che quelle leggi determinano il corso degli eventi li puoi prevedere questo naturalmente era il marxismo questa è stata l'idea di Marx e dei grandi marxisti che è il principio che muove l'evoluzione storica e l'economia e anzi in particolare i rapporti di produzione i rapporti fra il padrone e chi lavora per lui che questo coinvolge l'intera società perché tutti sono o padroni o operai voi capite Manchester 1840 questo è quello che loro si vedevano intorno e allora una volta che hai capito che questo è quello che conta e cominci a fare degli esperimenti ma è possibile che anche la letteratura l'arte la musica siano condizionate da questo e una volta che entri in questa prospettiva li trovi gli esempi di come i rapporti di produzione e l'economia in realtà condizionano anche altri campi e alla fine ti convinci che hai fra le mani una scienza e che questa scienza appunto il marxismo scientifico è stata una delle grandi illusioni dell'unione sovietica di cui Alessandro parlava una delle grandi illusioni tragiche che noi abbiamo fra le mani una chiave che ci permette di spiegare scientificamente quello che succede su questa terra e quello che gli esseri umani fanno e anche a quello non crediamo più e allora quello che rimane però è il fatto che la storia è banalmente il catalogo di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto da quando esistono su questa terra tutte poi alcune sono più interessanti altre meno anche il criterio di ciò che è interessante e ciò che non lo è però è cambiato nel tempo naturalmente un paio di secoli fa uno storico non avrebbe considerato interessante sapere cosa pensava una contadina longobarda al momento in cui stava per partorire noi adesso lo potessimo sapere cosa pensava quella contadina in quel momento no ecco tutto è interessante cosa più cosa meno in ogni caso tutto è storia qualunque cosa e quindi noi che stiamo al mondo e siamo esseri umani capiamo poco di noi stessi facciamo fatica a prevedere quello che faremo noi o quello che faremmo in certe situazioni quanto agli altri sono spesso un grande mistero anche gli altri che ci sono più vicini e l'umanità in generale però però uno che non avesse nessun esempio che non sapesse niente di quello che gli esseri umani hanno fatto in passato di quello che sono arrivati a fare nel bene e nel male delle cose meravigliose che sono state fatte e delle porcate spaventose che sono state fatte ecco immaginate uno che non sappia ecco è un po' come uno che fosse vissuto in Europa negli ultimi decenni e non sapesse che quando due stati litigano certe volte uno invade l'altro hai avuto proprio l'impressione che ci fosse gente che non lo sapeva che queste sono cose che succedono invece e che allora non è che devi strapparti i capelli e dire ma com'è possibile ecco no devi saperlo che queste cose succedono e che non impedisce che tu possa prendere parte da una parte o dall'altra ma non cascando scusate l'espressione dal pero come se fosse ecco sapere di cosa sono capaci gli esseri umani e anche cosa tendono a fare di solito naturalmente perché è chiaro che tu non puoi prevedere in modo scientifico però date certe condizioni che c'è il rischio che succeda quella cosa lì e beh quello lo puoi imparare studiando la storia e quindi studiando la storia appunto certo nessuno di noi ha più la sicurezza che a me aveva colpito da matti quando ero ragazzo da ragazzo avevo letto un libro l'autobiografia di un grande attore inglese dei miei tempi si chiamava David Neven grande attore soprattutto comico il quale durante la seconda guerra mondiale era un giovanotto era già un attore conosciuto e lavorava tipo nel servizio propaganda della Gran Bretagna e aveva avuto occasione di incontrare ci racconta e dice parlare con Churchill era un'esperienza incredibile ne sono uscito rafforzatissimo perché era evidente Churchill mi ha detto questa guerra noi la vinceremo non c'è il minimo dubbio e io gli ho chiesto come faceva a essere così sicuro e Churchill mi ha detto perché giovanotto io studio la storia questa cosa mi ha fatto rizzare i capelli in testa quando ero ragazzo adesso non ci credo più che se uno studia la storia può essere davvero così sicuro di qualche cosa però diciamo il senso generale della faccenda è quello grazie allora la questione diciamo Russia Ucraina nel libro è trattata con approfondimento e ci sono poi delle pagine dedicate nel dialogo tra il professor Barbero e Alessandro Di Battista anche alla questione della manifestazione libera del pensiero e di alcune norme che anche in Italia anche oggi per esempio vietano la ricostituzione del partito fascista e il negazionismo ci sono appunto alcuni limiti oltre i quali anche uno stato democratico tollerante come il nostro dice no oltre questo non si può andare nemmeno con la manifestazione del pensiero su questo Alessandro e il professor Barbero dialogano Alessandro Alessandro giusto ma non mi permetto allora e quindi vorrei vorrei su questo portarvi anche perché c'è un dato di cronaca in Germania sono state perquisite 130 abitazioni 30.000 persone si ritengono diciamo potenzialmente simpatizzanti di questo movimento che meditava niente po' di meno che un colpo di stato nella Germania nel 2022 per reinstaurare il Reich e rimettere anche in sella la monarchia insomma una cosa che sembra un meteorite domanda mista una è appunto se possiamo spiegare cosa pensate voi di questo tema cioè dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero rispetto a determinate idee che mettono in crisi la democrazia stessa e poi qui dobbiamo fare un'eccezione al discorso che non si può prevedere grazie alla storia del futuro però insomma a me piacerebbe sentire cosa pensano i nostri due ospiti della domanda è oggi ipotizzabile in Europa un ritorno di un fascismo sotto nove spoglie magari ma comunque quello che abbiamo letto sui giornali oggi è un po' inquietante ovviamente per quanto riguarda il reato di negazionismo quando io ero parlamentare votai contro il reato di negazionismo perché riteni che non fosse responsabilità della politica decidere per legge quel che fosse lecito o meno pensare da parte appunto della pubblica opinione mi ricordo che Massimo Fini in un pezzo sul fatto quotidiano scrisse che Galileo veniva considerato come un negazionista invece poi probabilmente insomma no senza probabilmente aveva ragione io credo sempre che la politica soprattutto in una democrazia debba entrare con molta molta delicatezza e possibilmente entrare il meno possibile rispetto alle manifestazioni di pensiero altra cosa è tentare un colpo di stato o ricostituire un partito fascista un partito nazionalsocialista è un'altra cosa non credo come non penso che il proibizionismo sia mai servito appunto a ridurre il consumo delle droghe non ho mai ritenuto che proibire per legge non si sa in che modo la manifestazione di un pensiero ma realmente pensare qualcosa possa ridurre l'incidenza del pensiero stesso sono concetti che il professor Barbero ha espresso meglio di me ma concetti simili anche su questo libro io personalmente quando ho avuto la possibilità da rappresentante del popolo italiano di votare votai contro il reato di negazionismo perché non penso che sia un reato utile e anche perché il libero pensiero è il prezzo che la democrazia se è democrazia deve pagare grazie posso cominciare raccontando una cosa che è stupidissima però dato che parlavi della scoperta ieri insomma di questa cosa in Germania degli arresti per darvi l'idea di come può essere distorta in realtà la testa di uno storico è frivola anche io vi confesso che la cosa che mi ha colpito di questa notizia è il fatto che fra gli arrestati c'è un principe che si chiama il principe Reuss XIII i principi Reuss sono una dinastia di principi tedeschi di piccolissimi principati in Turinja che esiste fin dal medioevo e che appunto fino alla riunificazione tedesca governavano questi minuscoli principati sono diversi rami della famiglia in questa famiglia dei principi Reuss fin dal dodicesimo secolo tutti i maschi si chiamano Heinrich perché in onore dell'imperatore Enrico VI che donò dei feudi alla famiglia quindi tutti i è una famiglia numerosissima esiste dall'undicesimo secolo dall'odicesimo tutti i principi Reuss si chiamano Enrico e per distinguerli uno dall'altro portano un numerale all'inizio sono arrivati fino a cento e dopo il principe Reuss centesimo hanno ricominciato da uno poi nel diciassettesimo secolo hanno deciso di cambiare di ricominciare da uno ogni secolo e quindi ogni secolo ricominciano e ce n'è un'infinità nella storia si chiamano così c'è un passo di Goethe in cui Goethe siamo all'inizio dell'ottocento dice oggi ho incontrato il principe Reuss cinquantadue e abbiamo fatto due chiacchiere questa è la prima cosa che mi ha colpito poi dopo naturalmente uno dice addio ci sono i neonazisti anzi neanche i neomonarchici terrificante ma capite lo storico fino a quando non vengono a bussare alla sua porta e ad arrestarlo ha questa risorsa e questo rischio al tempo stesso e dire ma sì quello che succede adesso è un pezzo di quello che è successo prima è la continuazione stiamo a vedere è un grande spettacolo è un rischio anche questo naturalmente di prendere tutto come un grande spettacolo così come diciamocelo è un grande spettacolo il passato che studiamo invece e noi vediamo succedere cose nel passato che in realtà ci divertono moltissimo che se succedessero nel mondo in cui viviamo invece non ci divertirebbero per niente naturalmente dopodiché vabbè inutile teoria perché siamo perfettamente d'accordo appunto i divieti i divieti di esprimere certe posizioni storiche sono deleteri e pericolosissimi e non importa il fatto che il primo divieto che ti viene proposto è un divieto con cui sei d'accordo e che sai benissimo che quell'imbecilio del professor Fausson che ha passato la vita a fare ricerche pseudoscientifiche sulla dispersione dei gas per sostenere che le camere a gas non potevano funzionare e quindi non ci sono mai state e tu sai perfettamente che è un cretino e sei sconvolto a vedere che per decenni si è discusso delle sue tesi e ci sono giornali che hanno dato spazio e gente che ci ha creduto e lì siamo in un ambito pericolosissimo perché si tratta di come dire del giudizio su eventi del passato abbastanza recente come appunto lo sterminio su cui poi si calibra il nostro senso di ciò che è giusto e sbagliato la nostra valutazione dell'etica insomma e quindi su quello come dire la prima reazione potrebbe essere ma si vogliono dato che il professor Forisson è un cretino e anche un furfante e pace all'anima sua e vogliono stabilire che non hai il diritto di dire queste cose in fondo avrebbero anche ragione invece no ti devi un attimo fermare e ti devi dire sì ma chi lo stabilisce il governo ecco no nessun governo nessun politico secondo noi deve mai avere il diritto di dire questa opinione storica non può essere espressa perché noi sappiamo a priori che è sbagliata e quindi vietiamo di esprimerla questa è una cosa che non bisogna fare quanto al fascismo io devo dire la vicenda tedesca non ho letto niente tra ieri e oggi lo sono sentita alla radio e appunto affascinato dalla presenza del principe però i 13 no no non sono riuscito tanto a prenderla sul serio confesso l'intera faccenda e magari sbaglio però sul fascismo è da tanto tempo che ce lo chiediamo naturalmente no e però attenzione perché anche lì il fascismo è stato tante cose il fascismo è stato un movimento complesso anche contraddittorio che ha cambiato idea su tante cose che cos'è quando io ero ragazzo scusate se mi capita troppo spesso di dire questa frase oddio vabbè era normale all'avversario dicevi fascista no ecco perché perché diceva uno fascista perché non era d'accordo con te perché era violento cos'è il fascismo di recente io ho fatto una lezione sul totalitarismo e sono andato a rileggermi nell'enciclopedia Treccani 1932 la voce fascismo parentesi ideologia del firmata Benito Mussolini è scritta in realtà in parte da Mussolini e in parte da Gentile quindi da un grandissimo filosofo che aveva abbracciato in pieno il fascismo e lì e lì vedi che il fascismo è secondo loro innanzitutto una cosa e cioè appunto un'idea totalitaria nulla fuori dallo stato dallo stato fascista nessuna associazione nessuna attività nessun individuo può esistere se non dentro lo stato allineata con lo stato controllata dallo stato il nazismo era la stessa cosa il nazismo appena va al potere le prime due cose che fa sono da un lato una bella conferenza stampa di Heiri Himmler capo dell'SS che annuncia l'apertura di un campo di rieducazione per gli avversari politici in un posto chiamato Dachau che avrà sulla porta la scritta il lavoro rende liberi ecco e poi fanno quello che in tedesco si chiama la gleichschaltung l'allineamento e cioè qualunque associazione qualunque istituzione ma non solo il sindacato anche il circolo degli scacchi può esistere solo in quanto è nazista si ispira alle regole naziste abolisce qualunque democrazia all'interno perché i dirigenti di qualunque organizzazione nel mondo nazista non devono essere eletti dal basso ma devono essere nominati dall'alto e i leader di qualunque organizzazione compreso appunto il circolo della caccia devono essere nazisti iscritti al partito quanto agli ebrei non possono essere iscritti invece a nessuna associazione il fascismo è la stessa cosa salvo che in un paese come l'Italia dove anche le tragedie rischiano sempre di finire anche un po' in commedia quando il fascismo decide di abolire tutte le associazioni che non siano fasciste e quindi bisogna abolire anche l'azione cattolica e ci si accorge che se si abolisce l'azione cattolica stanno negoziando il concordato in quel momento che sarà un grande fiore all'occhiello e allora dicono no no tutte tranne l'azione cattolica ecco l'azione cattolica non verrà abolita però comunque la spinta è quella è il totalitarismo è l'idea che lo Stato è onnipotente e che nulla ha alcun senso al di fuori dello Stato ora secondo me detto fra noi in Italia è pieno di gente che crede di essere nostalgica del fascismo che se sapesse questa cosa non sarebbe per niente d'accordo con un'idea del genere eppure quello era il vero fondamento del fascismo io quello non lo vedo venire onestamente ecco così come non vedo venire il sabato fascista le adunate di massa i bambini iscritti ecco ai Balilla le giovani italiane quelle robe lì non le vedo venire ecco una invece un sistema ma quello non è più il fascismo però è molto più normale c'è stato in molte situazioni diverse in cui bisogna pensare tutti la cosa giusta e quelli che non pensano la cosa giusta vengono emarginati e quello invece è possibilissimo in qualche misura ci sono appunto già delle avvisaglie non lo chiamerei il fascismo però direi tutto sommato dobbiamo aver paura in questo momento per ragioni di concretezza del pericolo più del conformismo forse che del fascismo sintetizzando forse direi questo ecco volevo aggiungere una cosa a quello che si diceva prima sul negazionismo in pochi hanno compreso che dietro a quella famosa lista di proscrizione come è stata definita quelle foto con appunto il termine di putiniano attribuito a personaggi di vario tipo sulla prima pagina di un importante giornale italiano in realtà al di là del fatto in sé che ovviamente l'abbiamo scritto e detto tutti non è bello è quello che c'è dietro che a molti è sfuggito cioè che dietro il famoso bollettino che poi era stato riportato anche aggiungendo nomi cambiando alcune cose dal giornale il famoso bollettino che proveniva dai servizi segreti che poi è stato costretto l'allora sottosegretario Gabrielli a tirar fuori quello vero e dire non è vero perché qui non ci sono quei nomi ecco si chiamava guerra ibrida e tutti non hanno capito che la cosa inquietante non era soltanto la lista ma anche questo termine guerra ibrida che giustificava la lista cioè in sostanza l'Unione Europea a un certo punto ha deciso che le guerre moderne si fanno anche con la propaganda ha scoperto questa incredibile novità però cosa che è accaduta nei secoli nei millenni forse soltanto che ha pensato di poter reagire a questo con una prospettiva diciamo burocratica tipicamente europea purtroppo intesa come Unione Europea e quindi ha creato un comitato che ha poi dato delle direttive vincolanti a tutti gli stati per creare all'interno di ogni stato delle task force che dovevano combattere che cosa? la propaganda degli stati esteri principalmente appunto la Russia mediante delle riunioni dei capi dei servizi segreti con i capi dell'Agicom per esempio dell'Agenzia delle Comunicazioni per individuare questa minaccia ibrida ed è da lì che è derivato questo bollettino con i nomi le facce cioè che poi è stato travisato ora quindi a volte la cura è peggio del male questa è la morale che dovremmo trarre cioè il fatto che è forse meglio avere delle idee che non condividiamo che sono cretine come diceva lei prima che circolano però che si perché l'anticorpo migliore è la circolazione di altre idee non è qualcuno che dall'altro le estermina stabilendo lui cosa è giusto e cosa è sbagliato detto questo volevo passare adesso a un altro dei temi che c'è nel nel dialogo molto interessante tra il professor Barbero e Alessandro Di Battista e si accenna a un certo punto all'immigrazione anche allora sempre prendendo spunto oggi c'è un'importante riunione a livello europeo in cui si parla di allargare Schengen e dei paesi come la Romania la Bulgaria diciamo dell'est e nel libro il professor Barbero come ha fatto anche in delle conferenze molto belle valorizza l'attualità del paragone tra crisi dell'impero romano per via dell'immigrazione e alcuni dicono crisi dell'occidente per via dello stesso tipo di problema ecco e sappiamo che noi abbiamo un ministro che diciamo ha detto queste cose anche a livello accademico diciamo ora il punto è l'immigrazione questo è quello che sostengono alcuni può effettivamente avere accelerato la crisi dell'impero romano e da questa lezione del passato cosa possiamo trarre noi c'è questo automatismo per il quale si dice poiché la crisi dell'impero romano sarebbe stata accelerata da una cattiva gestione nel problema dell'immigrazione porta soprattutto a destra a pensare quindi dobbiamo porci con dei muri o forse invece è proprio il contrario è proprio la lezione la dobbiamo trarre da come si è comportata prima Roma cioè assimilando e cercando di far diventare romani anche chi romano non era cioè questa è un po' la domanda io speravo che toccasse a lui parlare ma invece vabbè parlo io e poi tu concludi evidentemente vabbè al di là del fatto che qui dentro c'è qualcuno che si è precipitato o trafelato da un'altra sala dove ho fatto una lezione appunto sull'inizio delle invasioni barbariche e quindi con quelle persone mi scuso perché adesso diremo in qualche misura la stessa cosa ma sì il discorso dell'immigrazione e delle invasioni barbariche è un bel esempio di come l'attitudine dello storico verso il passato che studia sia anche in certi casi condizionata dalle preoccupazioni del presente non è che sia sempre così ma certe volte sì specialmente quando sono temi particolarmente scottanti voi pensate i fatti sono quelli le invasioni barbariche l'impero romano circondato dai barbari a un certo punto i barbari sfondano entrano e il mondo romano collassa cent'anni fa centocinquant'anni fa ma ancora cent'anni fa sì sì ancora cent'anni fa tranquillamente e anche meno ancora al tempo della seconda guerra mondiale quando gli storici guardavano a questi avvenimenti dicevano beh un chiaro esempio di come la storia è lo scontro fra le razze ci sono le razze vecchie decadenti e le razze giovani e piene di energie quello è la storia umana razze che vengono sempre fuori razze che creano grandi civiltà e poi declinano e questo è lo scontro fra la razza latina e la razza germanica poi ognuno naturalmente lo declinava guarda che meravigliosa civiltà aveva creato la razza latina e poi sono arrivati questi barbari con gli elmi cornuti la razza germanica che ancora oggi dimostra la sua inferiorità prima guerra mondiale ecco e hanno distrutto tutto se invece era uno storico tedesco dicevi vedi come la razza latina pur avendo creato una grande civiltà poi però si è infiacchita si era mollita ha cominciato a declinare ma per fortuna è arrivata una razza giovane piena di energie i germani cioè noi tedeschi pensavano gli storici tedeschi naturalmente e ha ridato nuova linfa e creato un nuovo mondo sulle rovine dell'impero romano e quindi l'impero romano è crollato sì perché era frollo molle decadente no è crollato perché i barbari l'hanno assassinato ancora al tempo della seconda guerra mondiale un famoso storico francese il Pigagnol aveva scritto un libro o un articolo intitolato proprio l'impero romano ha été assassiné l'impero romano è stato assassinato e ha poi raccontato una volta che quella formula gli è venuta in mente appunto durante la seconda guerra mondiale nella Francia occupata vedendo le SS a girarsi nelle strade delle città francesi e lì ha fatto l'analogia con i barbari che a suo tempo ecco oggi al di là del fatto che neanche osiamo pronunciare la parola razza non sappiamo più come esprimere le eventuali differenze esistenti fra gruppi umani perché ci manca proprio una terminologia accettabile per fare noi non sappiamo come gestirla questo aspetto della realtà in ogni caso siamo sicuri che la storia non è fatta dallo scontro eterno fra le razze razze vecchie razze nuove in compenso abbiamo scoperto che le invasioni barbariche sono un problema di immigrazione cosa che a cent'anni fa sfuggiva a chiunque ma non perché fossero stupidi perché per loro non era un problema e quindi quell'aspetto lì della faccenda non poteva interessargli mentre a noi interessa e allora diventa significativo vedere che prima che le invasioni barbariche diventassero devastanti in realtà l'impero romano per due secoli aveva assorbito mano d'opera di cui aveva un gran bisogno e per due secoli l'impero romano è diventato una società sempre più multietnica ma con una cultura di base che invece era quella era quella greco-romana e con una grandissima capacità di assimilare chi ti pregavano l'idea era voi diventerete romani come noi pagherete le stesse tasse che paghiamo noi e non importa non importa che siate certo specialmente i barbari che venivano dal nord si vedeva che erano una razza inferiore alti e biondi ridicoli quando le persone civili sono dei tappi bruni naturalmente però ecco nonostante siate palesemente di una razza inferiore se lo volete anche voi potete diventare come noi ed effettivamente il mondo romano va avanti due secoli integrando e assimilando barbari e poi c'è un momento in cui invece questa capacità di integrazione e di assimilazione salta in cui non riesci più a proporre un'integrazione efficace ma neanche a pretenderla però in cui corruzione abusi e così via fanno saltare i meccanismi di integrazione e a un certo momento questi flussi diventano ingestibili ecco voi capite è una cosa meravigliosa che io potrei vendere sia un politico di destra sia un politico di sinistra perché se racconti la prima parte è perfetta per un politico di sinistra se racconti come va a finire invece è perfetto per un politico di destra poi appunto se uno vuole può dire no però forse effettivamente peccato che tocchi andare a guardare gli antichi romani per dirlo perché sembrerebbe ovvio però regole chiare possibilità di integrazione chiare lavoro e anche però pretendere delle cose in cambio da chi arriva ecco ma possibile che dobbiamo andare a studiare gli antichi romani per arrivare a queste banalità ecco grazie parola ad Alessandro per chiudere poi abbiamo cinque minuti e poi potete fermarvi fuori insieme al professore anche per fare il firmacopie prima ho parlato soltanto di negazionismo e non ho risposto alla domanda rispetto al fascismo di oggi io credo che vi è un totalitarismo del pensiero unico vi faccio un esempio le prime sei industrie belliche del pianeta le prime cinque sono nordamericane la Lockheed Martin la Boeing la Northrom la Raytheon Technologies e non mi ricordo la sesta è britannica la Bay System i principali investitori istituzionali di queste enormi fabbriche di armi sono i fondi di investimento nello specifico tre grandi fondi di investimento americani BlackRock Vanguard Group e State Street Corporation sono anche i principali investitori del numero maggiore dei social dei social network nonché delle grandi case farmaceutiche soprattutto le grandi case farmaceutiche americane fondamentalmente noi ci siamo vaccinati quasi esclusivamente grazie a vaccini americani a me questa cosa ha scandalizzato insomma il vecchio continente che fondamentalmente non riesce a produrre un vaccino al 100% europeo quando una piccola Cuba tanto vituperata piccola Cuba con una casa farmaceutica pubblica è riuscita a produrre un vaccino pubblico che appartiene appunto ai cittadini stessi e io a differenza del professor Barbero non sono mai stato comunista ma penso di essere una persona libera credo che questo sia un grande problema come un problema del pensiero unico il problema del pensiero unico è correlato anche al tema dei conflitti di interessi tra grandi editori e interessi appunto industriali i famosi editori impuri che vi sono nel nostro paese molti giornali appunto appartengono a uomini o donne che nulla hanno a che vedere poi con la tutela o la voglia di garantire la libertà di stampa ma utilizzano il sistema mediatico che hanno a disposizione appunto per salvaguardare interessi che appunto sono diversi a quelli appunto della libertà di espressione per me in un certo senso poi è come diceva prima Alessandro Barbero un po' l'abuso della parola fascista fascista se non mi fai parlare fascista se sei violento però in un certo senso questo è il totalitarismo di oggi un modo per me per tentare di scardinarlo è senz'altro poi io questo l'ho scelto perché quando io scelsi di non ricandidarmi decisi di viaggiare soprattutto i primi mesi in compagnia della mia compagna e mio figlio piccolo alcuni giornali di centrodestra l'hanno sempre ironizzato su questo ma il viaggio a me ha consentito di conoscere e di capire un po' meglio il mondo io sono andato a fare anche grazie al loft che è la tv del fatto quotidiano dei documentari in Iran in Persia e sarà che c'era stato un attentato o quantomeno era stato buttato giù per Roma comunque ha buttato giù un aero dell'Ucraina Airlines dai Pasdaran a seguito poi dell'omicidio del generale Soleimani che è il generale uno dei capi della brigata a Gerusalemme dei Pasdaran ucciso da un drone americano a Baghdad e insomma non lo so mi prese un po' la paura di prendere l'aero ma come sempre un po' come Tiziano Terzani che utilizza quella paura per tornare per girare in Asia un anno intero in treno e lo racconta in un bellissimo libro che siamo un indovino mi disse io tornai dal Berucistan quasi al confine con il Pakistan in Italia via Terra passando chiaramente tutto l'Iran da Terran a Tabriz poi tutta la Turchia il Bosforo entrai in Bulgaria i Balcani dove avevo fatto il volontario con la Caritas durante gli anni universitari e poi mi sono imbarcato a Split per Ancone vidi moltissimi cittadini nordafricani a Sarajevo insomma mi chiesi il perché insomma mi parlarono di vari centri accoglienza nella periferia di Sarajevo per arrivarci si prende il tram numero 3 che passa davanti al luogo in cui Gavrilo Princip uccise gli eredi al trono dell'impero sburgico e poi passa anche davanti al mercato dove furono consumate due grandi stragi le famose stragi di Marcale poi va nella Novi Sarajevo dove ci sono ancora i segni delle bombe cadute durante l'assedio e si arriva a dei centri profughi conobbi un ragazzo afgano di Erat Amir lo riconobbi dall'anello sciita parlava farsi e lui mi portò a conoscere varie persone al di fuori di questo campo profughi per lo più cittadini marocchini parlai un po' insomma la mia compagna è francese un po' parlamo in francese e mi raccontarono che per loro era molto più facile entrare in Europa attraverso la rotta balcanica piuttosto che attraversare lo stretto di Gibraltar e entrare in Spagna cioè ce l'hanno di là l'Unione Europea eppure per loro era più facile prendere un aereo non lo so da Casablanca da FES o da Marrakesh atterrare a Istanbul perché non chiedevano il visto e da lì o trepassare il Bosforo e entrare in Turchia in Bulgaria o in Grecia era il periodo in cui Erdogan riuscì a ottenere 6 miliardi di euro dall'Unione Europea per gestire teoricamente i flussi migratori cioè l'Unione Europea gli ha garantito Erdogan poi si sono scandalizzati perché non ha fatto sedere la Fonderley è un scandalo però ci si è scandalizzato molto più su quella roba lì per carità grave piuttosto nell'avergli consentito di utilizzare un'arma ricattatoria che tuttora utilizza oltretutto dopo aver consentito a proposito del governo di oggi di questi pseudo sovranisti che fanno l'interesse nazionale io ricordo a tutti che evento soprattutto voluto da Sarkozy e dalla Clinton in Libia che nulla va a che vedere con la tutela dei diritti umani in Libia ma soltanto per ragioni geopolitiche sappiate che Gheddafi aveva finanziato la campagna elettorale di Sarkozy quindi temevano pure che potesse parlare dei miliardi che lo Stato libico aveva appunto garantito a Sarkozy e poi Gheddafi questo ce lo racconta anche Assange e Wikileaks santo Assange penso che dovremmo tutti quanti ricordare il lavoro che fa soprattutto è un momento drammatico per lui perché sta molto male colpirne uno per educarne altri cento al silenzio se Assange dovesse finire i suoi giorni in un carcere in massima sicurezza questa sarà la migliore garanzia per il sistema che sarà molto più difficile che potranno nascere altri Assange colpirne uno per educarne altri cento al silenzio e sostanzialmente grazie a Wikileaks abbiamo saputo che Gheddafi aveva messo da parte quantità poi io non ho mai avuto simpatia perché Gheddafi gli hanno baciato altri le mani io mai per l'amor di Dio però aveva messo da parte molto molto tonnellate di oro per tentare di creare una moneta pan-africana che potesse sostituire il franco 6FA comunque l'idea è di costituire anche una serie di istituzioni finanziarie un fondo monetario africano una banca di investimenti africana e un e un banca centrale africana con sedi una in Nigeria un altro se non sbaglio in Cameroon e l'altro a Sirte devo chiudere? ok questo per dire che la questione anche migratoria è molto molto complicata e io ho compresi in quel centro profughi nella periferia di Sarajevo quanto controllare oggi le rotte migratorie sia diventato un'arma strategica geopolitica come un tempo era non lo so controllare lo stretto di Malacca lo stretto di Gibraltar o il canale di Suez e quella guerra in Libia ha consentito a Erdogan in parte anche ai russi oggi di controllare non soltanto la rotta balcanica utilizzata dai marocchini che preferiscono passare per la Turchia per entrare in Europa ma anche parte della rotta del Mediterraneo credo che anche questo sia un modo di valutare il tema appunto il dramma dei flussi migratori e ora dico una cosa che però è l'ultima per me forse un po' politicamente scorretta io credo che spesso e volentieri destra e sinistra che sono molto molto simili per quel che concerne le armi in Ucraina le sanzioni la salvia guardia ed una serie di parametri europei necessitino di un argomento divisivo come i flussi migratori porti chiusi da una parte cooperativi aperte dall'altra senza mai veramente combattere per il diritto di stare a casa propria menzionato da Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti perché alle volte occorre un argomento divisivo per continuare a dividere l'elettorato tra destra e sinistra però questa è è da sempre un mio convincimento allora io ringrazio tutti voi che siete stati a ascoltare il professor Romero e Alessandro Di Battista per chi volesse il libro firmato si tratterrà nell'uscita però qui non possiamo più restare grazie a tutti e anche a chi è rimasto fuori grazie a tutti grazie a tutti